ragazzi doveva solo essere una prima impostazione ma abbiamo una bravura indefinita ragazzi purtroppamente qualcosa è andato male da un anno a questa parte e si doveva fare una demo d'arco che non è stata fatta siccome tendo a fidarmi dei miei collaboratori e specialmente degli amici che sono amici da vent'anni avevo affidato a luca la demo della scuola dello studio bonsai in subria e faceva le mie veci per cui sarebbe stato un clone dell'ivo doveva rappresentare la scuola a dar con un panorama importante anche perché era un momento importante per la sua crescita bonsai istica e andava a suggellare un po l'arrivo del suo percorso e purtroppo ripeto qualcosa è andato male se è stata spostata più volte la manifestazione per ovvi motivi e però abbiamo voluto ugualmente fare la demo di arco sia perché la pianta richiede lavorazione sia perché è il momento in cui il nostro gianluca ci mostri cosa sa fare no per cui farà le mie veci a tutti gli effetti e perché no chiamatelo ivo buongiorno a tutti benvenuti allo studio bonsai insubre oggi siamo qui per mostrarvi una lavorazione su questo pino silvestre della mia proprietà io mi conoscete sono vivo saporiti video che è un follow up sarà un follow up in realtà di un video già visto in passato ma ve lo spieghiamo dopo la sigla sigla pronti a darvi questa prima panoramica di questa pianta spero che durante la sigla voi vi siate ricordati di iscrivervi al canale youtube e cliccare la campanella altrimenti bene io intanto ho già iniziato a mettere del filo su questa pianta questa è una pianta nel mio possesso da ormai sei anni acquistata nel 2015 mi pare al mercatino di marostica durante l'edizione della della mostra nazionale ubi allegheremo delle foto del percorso svolto durante questi sei anni perché la pianta era molto molto diversa rispetto a come la vedete oggi io questa mattina ho già iniziato a mettere del filo per iniziare a impostare fare questa prima impostazione primo styling su questa pianta ve lo vedremo ecco durante la giornata come come evolverà adesso ve la giro perché questa pianta veramente ha tantissime curve sono state fatte tantissime pieghe artificiali non sembra ma c'è un sacco di artificio in realtà su su questo esemplare e cercheremo di portarlo a termine oggi nel migliore dei modi per valorizzarla a pieno nel frattempo vediamo in divenire il primo palco che è stato sapientemente filato dal nostro ivo e vediamo come pian piano sta per essere così messo in posizione favorevole allo sviluppo ora vediamo un pochino più da vicino la filatura che è messa vedete con le gemmine che puntano verso l'alto allora sono gemme sono molto avanti per la filatura e quindi bisogna trattarle con le mani di velluto perché altrimenti se saltano è vero che abbiamo già ma retratte ma perde di vigoria la pianta nel frattempo qua vediamo dei lavori di in bastitura qua è stato assottigliato vedete che cambia il diametro del ramo anche qua è stato svuotato e ripiegato ok anche lì ci sono delle pieghe e sono pieghe che stanno callando stanno guarendo nel frattempo facciamo una piccola rifinitura senza esagerare però che inizia a mettere la pianta un po in forma allora ragazzi contenuto esclusivo per questo gruppo far vedere i metodi di piegatura adottati sulla pianta di gianluca che è qua che siamo adesso siamo in dirittura d'arrivo volevamo farvi vedere allora quando si parla di tiranti lo vedremo ogni metodo è buono non c'è un una regola precisa non c'è una scienza precisa deve fare la sua funzione cosa abbiamo fatto su sta pianta come vedete qua c'è una fessurazione poi andremo magari a frammentare la corteccia in modo tale che si veda meno questo segno e dall'altra parte lo vediamo di qua vedete quindi alla fessurazione su quali diametri poi anche essere in grado di lavorare poi ancora importante questa zona qui allora forse quando si vede tanto vedete come è tutta arrotolata qua sotto la vedete la cosa bella che prima questa e andava in alto quindi ecco qua si vede questo pezzo adesso è così era basculava è stato girato in questo modo così che questo ramo che adesso vediamo andare di là e compattare la forma andava via dritto sopra è stata una cosa apparentemente molto stressante in realtà è servito per poter piegare la pianta senza troppi stress ok ancora andiamo avanti non paghi avevamo fatto una piegatura qui qua vedete andava dritta l'abbiamo piegata con uno svuotamento e vabbè abbiamo fatto svuotamento anche qua per raddrizzare per rendere più morbido questo ramo ok uno svuotamento con piega anche sopra piega un po secca forse abbiamo peccato dovevamo mettere qualche tutore in più però adesso possiamo ad esempio lasciare questi queste fascette che non tengono più il tutto è stato messo ad esempio in questo caso con è stato fissato con delle viti cioè una vite si qua si vede forse questa zona che è avvitata all'altra parte del tronco in modo tale che la struttura autoportante cioè io sta pianta da qua la posso prendere sollevare che non muove di un millimetro a volte sembra stressante ma il fatto che non si muova minimamente quello che garantisce la la veloce ripresa va bene anche quello è vero assi questo è stato splittato questo è stato splittato metà è andato a fare sta zona e metà va via di la fare il retro quanta tecnica ragazzi una pianta pagata due soldi no ma quattro soldi e adesso vale molti soldi bene ragazzi allora nel frattempo vediamo uno stato adeguamento lavori del nostro ivo che tra sfida sta facendo da solo questa pianta ok e ci facciamo raccontare da lui stesso qualche cosa sta pianta le emozioni che sta provando dimmi pure grazie grazie luca di avermi passato il microfono prego sono ancora vivo l'emozione che mi sta suscitando questa pianta allora torno indietro torno indietro negli anni soprattutto mi ricordo ancora quando l'ho acquistata sta pianta qua ma sì è vero che non ho speso molto poi il molto è sempre relativo effettivamente ma comunque sicuramente non i prezzi che vediamo per esemplare di questo tipo o comunque di questo di questo fascino dappertutto però effettivamente ha detto ma sì cioè buttare i soldi non piace a nessuno però sicuramente è una pianta che in termini di acquisizione di tecniche di sperimentazione potrà potrà darmi molto è stata una scommessa ovviamente perché vederci qualcosa effettivamente già per com'era e per come avete visto nelle foto precedentemente era difficile però cacchiarola e vedere come è stata trasformata in tempo relativamente breve perché comunque le tecniche che sono state apportate a questa pianta qua hanno richiesto poi di farla riposare di farla comunque rinvigorire quant'altro e devo dire che ha sempre risposto alla grande anche il fatto di avere fatto le ultime lavorazioni in afici con delle pieghe comunque molto molto importanti a dicembre ed essere oggi qui a provare a fare a fare non a provare a fare la rifinitura voglio dire che è un azzardo ma comunque siamo confidenti perché comunque siamo abbastanza padrone della tecnica e siamo confidenti che comunque non per la pianta non sarà comunque un problema rispondere nuovamente come del resto ha fatto negli ultimi anni quindi mi suscita questo l'emozione che mi suscita vedere come siamo riusciti a trasformare una pianta che inizialmente poteva essere considerata una pianta così da battaglia dalla sperimentazione a un esemplare che probabilmente domani magari mi darà anche delle soddisfazioni in mostra spero direi che eccoci qua la pianta sta evolvendo piano piano siamo arrivati quasi in zona d'apice adesso dovremo iniziare sistemare ancora qualche qualche ramo della parte un po più bassa per poi iniziare a impostare la parte di apice abbiamo sufficiente verde per poter realizzare comunque una soluzione già abbastanza definita e comunque piena non sarà semplice perché comunque questa pianta ha una forza pazzesca e sta facendo dei diametri in pochissimo tempo molto importante di conseguenza quello che farò adesso è metterli protezione per poi successivamente iniziare a fare un po di pieghe importanti la parte di apice sarà fatta con questa parte qui che dovremo portare avanti un pezzo di apice perlomeno verrà fatto con questa parte qui questa parte invece devo decidere se dividere questa parte per portare questa parte sotto banalmente questa parte sotto verrà realizzata tramite questo rametto questo qui sarà l'altro pezzettino che si farà che comporrà la nostra diciamo cupola finale ci vediamo fra poco ancora abbiamo ancora un pochino di lavoro da fare come dicevo appunto i diametri sono già abbastanza importanti anche in apice anche la lunghezza insomma è importante di conseguenza useremo sfrutteremo la lunghezza di questi rami per andare a coprire avere masse vegetative in tutte le zone alte della pianta ok anche questa parte qui verrà portata indietro visto che lunga verrà portata indietro in modo che riusciremo a coprire la parte subito dietro alla all'apice dobbiamo mettere la parte sul retro in modo da coprire questa zona dopodiché sulla parte di apice andremo a costruire un po' di cose deve andare a costruire un po' di cose da parte un po' di cose un po' di cose un po' di cose un po' di cose ragazzi doveva solo essere una prima impostazione ma abbiamo una bravura indefinita fate la parola adesso parla stata dura ragazzi ma abbiamo abbiamo finito a io sono sempre vivo saporiti al secolo luca sartor e basta la pianta siamo arrivati a questo risultato spero vi piaccia adesso vi racconterò ma lascio la parola a lei sai cosa luca che la nostra bravura ci condanna a primeggiare poi risultiamo antipatici cazzarola toccherà iniziare a sbagliare qualche pianta la prossima magari quella di